Mattel presenta Masters, i dominatori dell'universo! Skeletor ha catturato Tila, Fodak ha visto e con la Windrider vola da Keyman. Keyman, Tila è in pericolo! Keyman con la sua Battle Cut sfreccia via! Non vincerai, Skeletor! Manet Arms gli si affianca e con il suo Battle Run sfonda ogni ostacolo! Sei finito, Skeletor! Tieni! Tila è libera! E ricordati, Linea Scuola Masters, la scuola più forte dell'universo!